ciao a tutti amici di total photoshop sono la cami e bentrovati in questo nuovo videocorso che parla di premiere pro si si 2017 ebbene sì perché è uscita la nuova release del programma ma non vi preoccupate non sono cambiate tante cose alcune si noi vediamo insieme le nuove funzionalità nello specifico in questo videocorso parliamo di titoli e sì perché all'interno di premiere si possono fare dei titoli veramente fantastici non serve per forza utilizzare after effects o un supporto di grafica come photoshop noi vedremo quindi l'interfaccia della titolatrice di premiere come realizzare dei testi base quindi dei sottopancia come realizzare dei titoli di coda con lo scorrimento verticale e come realizzare dei titoli stile news alla cnn con lo scorrimento orizzontale vedremo tutte le varie funzioni che ci portano alla realizzazione di questi titoli poi vedremo come importare i template messi a disposizione da adobe relativi sempre alla grafica in premiere quindi copertine titoli di testa di coda sottopancia e così via vedremo come modificare questi template e poi vi darò qualche spunto creativo qua e là per realizzare i vostri titoli nonché anche titoli di testa perché sono importantissimi quindi se mi state guardando dai nostri canali social non vi resta che cliccare sul link e accedere a tutti i contenuti che compongono questo videocorso il mio augurio per voi è una creatività sempre in movimento